Splendido! Assolutamente splendido! Jolly Jack Tarly, ovvero il marinaio che sguignazza! Lei è Milo Timber. Cosa fa nella vita? Io sono nel ramo turismo, la mia agenzia di viaggio è l'Ondra Sud. Io racconto le barzellette e lui è libero! Se ho ben capito, lei ha intenzione di sposare Margherita. La nostra sarà una vita diversa, una semplice vita d'amore. Lei ha fatto l'erogia sulla mia compagni. Bel colpo, eh? Ne tantomeno mezzi pregiudizi. Contrometti ebrei. Il padre... Questo distinto signore si chiamava Andrew Wabek. Ma io sono il pranto! Io non le ho mai promesso che l'avrei portata per Natale Ciovanica. Lei si preoccupa per me a vedere. Una fantasia con i peggiazza! Tornale, Tremus che tiene! con i peggio dei tor dancioclei. Ma sai buoni per la test Phew! Ma sai buoni per la testa! Abbiter olt'escit Ascari di Pagliaccio PULUBU attenzione ahahahhhhh ah, mi trova divertente eh L'ho preso, l'ho preso L'ho presa no, l'ho presa l'ho presa Come se fai? Le porta gioie, non c'è maracca Come vorrei che mia madre mi vedessi Ai seduttori e l'alfo e di mogli Uno dei suoi soliti giochetti, eh? Certo, è il gioco cui stiamo giocando da tutta la sera. Si intitola Tu stai per morire e nessuno penserà ad un omicidio. E lei, Andrew, è soltanto un cane rabbioso che non me la lascia! Oh, bravo. Ma questo è assurdo! Lei sta forse insinuando che io l'avrei ammattata. Ah, questa mattina l'hai venuta, ho detto io. Tinder e mia moglie hanno una relazione. Questo Sandware Actress, sai? Si, vado qui si. Non lo tolgo. Guarda, è un piccino della terra. E' ancora umido, sai? il mio unico scopo adesso è di pareggiare il conto aaaah aaaah lei ha nascosto qui anche l'arma del delitto mi senti qui non penti a te si a gente il punto se non il cavalletto verrà la polizia a parte che sono tutti ben in vista anche se in un certo senso hanno trovato vediamo che siamo salvi no dove l'ha come? che cazzo no è carissimi e adesso lasci che le infalli di terra Mi ha detto che non c'è niente tra di voi, ma più di un anno. Sconvolto. No, contaminato da lei. Lei non ti può apprezzare come ti apprezzo di me. Ma si guardi allo specchio, eh? A presto, a presto, a presto! Grazie.